Ma ciao Cioino, ciaoetto ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati come ormai quasi ogni giorno con un nuovo episodio di Spirity with me, Cristiano Ciorvigni e oggi siamo arrivati alla parte 2 dello Spirity dedicato a tutto il mistero di Kate Middleton Faccio un piccolo PS come sempre ormai vi ho abituato a inizio video dobbiamo dire le cose della fine del video precedente Allora, lo so che si chiama Principe William senza la S, ok? Solo che non so per quale motivo ogni volta che dicevo William ci mettevo una S finale quindi mi veniva Williams, non lo so come mai però non vi preoccupate vi ringrazio per avermi fatto notare più e più volte quest'errore ma non so per quale motivo l'ho chiamato Williams Fatto sta, veniamo a noi se vi siete persi tutta la parte iniziale riguardante Kate Middleton, le teorie del complotto, del perché lei è sparita da 74 giorni, non sappiamo nulla e non abbiamo neanche una foto su di lei vi lascio la parte 1 qua sotto nell'info box nel caso in cui guardiate questo video su YouTube e quindi potrete andarlo a recuperare vi ascoltate tutta la storia, vi fate la vostra prima idea e poi potete tornare qua perché oggi finalmente andiamo ad analizzare la prima fotografia ufficiale uscita di Kate Middleton dopo l'intervento all'addome fatto a inizio gennaio vi conviene andarvi a mettere comodi, andare a prendere il vostro drink o snack preferito vi ricordo che comunque se siete accorto di snack dolciosi ma anche salati io ho ancora il codice sconto di American Uncle Cristiano 5, è cambiato prima era 05, adesso è 5 e il link trovate tutto anche in questo caso qua sotto nell'info box mi raccomando, buono shopping dolcioso ma vediamo a noi come mai vi ho detto che è uscita finalmente la prima foto se lo scorso episodio lo avevamo finito dicendo che era apparsa una foto una paparazzata di lei in macchina ma che appunto erano arrivate tutte le teorie del complotto che dicevano non è lei è la sorella Pippa vi ho detto così adesso perché la fotografia che vi mostro qua in questo momento è la prima ufficiale, la prima pubblicata direttamente dai social ufficiali della famiglia reale e come ben potete vedere ritrae Kate Middleton in compagnia dei suoi tre figli questa foto sarebbe stata scattata dal principe William e no Williams e sarebbe stata pubblicata il giorno della testa della mamma nel Regno Unito e direte voi oh finalmente finally a Bemus photo finalmente dopo 70 e più giorni che tutti si stavano chiedendo che fine ha fatto Kate secondo me è successo questo come è successo quest'altro perché non si fa vedere finalmente eccola raggiante e sorridente in compagnia dei figli e no ragazzi e ragazzi perché se no sarebbe troppo facile e questo video sarebbe finito qui ok? ovviamente con l'uscita di questa fotografia le voci, le teorie e i complotti sono aumentati si sono moltiplicati a dismisura perché c'è qualcosa che non va innanzitutto ragazzi e ragazzi ad un primo sguardo capiamo benissimo che la foto è stata modificata e quando io ve l'ho pubblicata tra le mie Instagram stories già in tantissimi di voi mi avevato scritto rispondendo a quella storia dicendomi ah Cristia ma è finta questa foto è fatta con l'intelligenza artificiale oppure ancora ma siamo sicuri che è di oggi questa fotografia e non hanno preso una foto vecchia che non avevano ancora pubblicato c'è qualcosa che ci turba e ragazzi e ragazze e ragazzo io ovviamente sono andato ad indagare per voi sul sito di sky tg24 ho trovato proprio un articolo che racchiude tutte le cose strane che sono state avvistate dalle persone che hanno visto questa fotografia e le hanno analizzate e quindi chi sono io per non riportarvi tutta la notizia Cristiano Cervini ah iniziamo la fotografia in questione l'avete vista ok adesso io vi metterò gli zoom gli ingrandimenti delle cose che sarebbero sbagliate per esempio la prima cosa che è saltata all'occhio è il polso della figlia Charlotte la fotografia è questa e in molti hanno fatto notare che una parte del polso manca a questa mano ok vedete che è un po' strano che è messo tipo un po' così qui secondo me ragazzi c'è stato un po' di editing un po' così casereccio come quando io mi modifico le foto su Instagram insomma ma questo è solo l'inizio perché se zoomiamo anche una delle mani di Kate Middleton che è questa qua possiamo vedere che la mano è senza anello è senza fede è nuziale è senza anello di fidanzamento e è una cosa un po' strana allora può darsi che le spiegazioni possono essere due o si è lasciata con William e quindi ce lo vuole non ce lo vogliono dire ma ce lo vuole far capire con queste cose oppure la foto è stata fatta con l'intelligenza artificiale perché quando noi facciamo delle foto con l'intelligenza artificiale la cosa più difficile da ricreare sono le mani e non ti verrà mai la mano uguale a quella che hai te oppure non indosserai mai gli anelli o i bracciali o le collane che te indossi nella vita reale quindi molti vedendo questo particolare anzi vedendo la mancanza di questo particolare hanno gridato allo scandalo perché appunto sono convinti che questa fotografia in realtà non esiste ma è stata fatta appunto con l'IA ma andiamo avanti perché se noi prendiamo in esempio un altro dei suoi figli e quindi Louis in molti hanno notato che in questo maglione ci sono delle ombre che sono state emesse un po' così sono strane no? sono delle ombre che non ci dovrebbero essere nella realtà ma andando un po' più in su zoomando sulla spalla o comunque nei ghirigori del maglione in molti hanno sottolineato leggo che la greca sul maglione di Louis non sembra essere perfettamente allineata e quindi lì vai di face up vai di face tune che alzi modifichi dimagrisci ingrandisci e ti viene tipo un aggeggio fatto un po' così oppure un maglione cinese ma non penso proprio ma continuiamo perché se noi spostiamo la nostra attenzione invece che su di loro la spostiamo nello sfondo anche il pavimento sarebbe un po' diciamo malandrino perché con questa foto abbiamo notato appunto che il pavimento è un po' strano nel senso come fa a essere una parte così e una parte così e non combacia c'è qualcosa che non va questo di solito avviene quando appunto usando face tune per esempio andiamo a modificare non lo so le mie spalle che le ingrandisco sempre di più oppure le rimpicciolisco e poi tipo nello sfondo non mi accorgo che questo che questa parte di mobile fa una curva strana innaturale perché appunto io modificando qui anche dietro si modifica devo stare molto attento e qui sembrerebbe questa roba insomma ma non è finita qua perché se guardiamo anche l'albero sullo sfondo in poche parole questo albero appare essere in super fioritura no? cosa che è impossibile dato il tempo dato che siamo a inizio marzo ancora la primavera non c'è ora è vero che c'è il cambiamento climatico e tutto quanto ma sembra un po' strano e per ultimo sky tg24 fa vedere questa fotografia che si vede pochino perché è scura ma indica la zip della giacca di kate che diciamo è un po' problematica insomma e quindi tutti questi fattori che le persone e poi i giornalisti hanno riportato su internet hanno indicato questa foto come super fake tant'è poche ore dopo la pubblicazione ufficiale di questa fotografia la stessa fotografia è stata ritirata dalle agenzie di stampa internazionale perché appunto è stata troppo modificata è stata troppo manipolata digitalmente quindi le agenzie di stampa non l'hanno accettata ora abbiamo un mega drama ragazzi perché se vi ricordo se avete visto la parte 1 sapete già che in Inghilterra e anche in mezzo mondo le persone alcune persone sono convinte che è successo qualcosa a Kate Middleton e che il fatto della convalescenza per via di questo intervento all'addome sia soltanto una scusa per nasconderla perché in realtà è successo qualcosa di grave è uscita fuori questa fotografia l'hanno tolta in mezzo secondo tutte le agenzie di stampa hanno comunque dichiarato che questa foto è stata manipolata che non è una foto vera capite che i complottisti sono andati fuori in un brodo di giugiole e hanno continuato a esternare i propri dubbi e le proprie teorie ci sono delle nuove teorie ragazzi oltre a tutto quello di cui abbiamo già parlato scorsa settimana la nuova teoria del complotto vuole Kate Middleton in realtà malata di cancro anche lei e quindi per questo motivo sarebbe sparita dai radar e soprattutto con la pubblicazione di questa foto fake avrebbe voluto non far preoccupare i propri fan usando una foto vecchia e modificandola perché mettendo una foto di ora praticamente la gente avrebbe scoperto che sta male inoltre ritorna la teoria che lei in realtà non c'è più perché appunto colpevole Buckingham Palace e chi di dovere di pubblicare una foto fake fatta con l'intelligenza artificiale amo questo è un messaggio subliminale che ci vogliono prendere in giro perché in realtà lei è morta e quindi l'unico modo per continuare a far finta di scattare fotografie nuove a lei è l'intelligenza artificiale e quindi poi il risultato è la fotografia che avete visto prima ora in questo caso però ci viene in soccorso la stessa Kate Middleton almeno noi pensiamo perché sul profilo Instagram che lei usa ufficialmente insieme al principe William ha pubblicato questa cosa questa nota in cui scrive come molti fotografi amatoriali faccio anch'io qualche esperimento di editing a volte voglio scusarmi per la confusione creata dalla foto di famiglia che abbiamo diffuso ieri spero che tutti abbiano passato una felice festa della mamma a quanto pare se inizialmente chi di dovere si era rifiutato di dire qualcosa a riguardo di questa fotografia sembrerebbe che Kate Middleton abbia voluto prendere la situazione sotto mano e pubblicare questa cosa in cui appunto fa o mea colpa e dice raga come tutti anch'io sono umana ora è vero che sono la principessa surpisel però anch'io uso le app per modificare le mie foto per sembrare più carina ho abusato ho sbagliato chiedo scusa a tutti e secondo voi le persone ci credono a questa cosa e no perché ovviamente ancora a teorie del complotto riguardante anche questa nota ufficiale fatta sui canali di Kate Middleton che vogliono che questa nota ovviamente non è stata scritta da lei e soprattutto la loro diciamo spiegazione sarebbe questa ma chi ce crede perché te ti pare che ti lasciano fare pubblicare le fotografie come ti pare a te e soprattutto ti lasciano modificare le fotografie a te senza che nessuno la riguardi prima di dare il consenso di pubblicarla data dato che comunque fai parte della famiglia reale è impossibile una cosa del genere e poi un'altra teoria ma se è vero che tu l'hai modifiata come ha fatto a modifiarti la mano togliendoti la fede non torna questa cosa capite a me boh allora le spiegazioni potrebbero essere tantissime ragazzi del fatto che non ha la fede ardito boh magari le su mani in quella foto non gli garbavano e la ha photoshopata un'altra che non è la sua e lì non c'era la fede e non ce n'è il retaonto oppure può aver lasciato veramente William oppure per via delle varie visite che deve fare non lo so in ospedale e magari deve fare delle risonanze che non vogliono bracciali collane anelli se le è dovuta toglie e magari questa foto è una foto boh di quando è appena uscita all'ospedale non ha avuto ancora tempo di mettersi l'anello e si è scattata sta foto non lo so come mai questo anello manca ora l'anello gate mi mancava raga perché avevamo parlato avevamo affrontato l'anello gate per quanto riguarda Chiara Ferragni e Fedez che gli manca la fede poi se la rimettano poi si fanno vedere senza insomma un casino ci mancava anche la signora dell'anelli parte 2 in Inghilterra io dell'anello non so che dirvi le scuse boh può anche darsi che sia stata lei può anche darsi io non so come funziona il protocollo in questo caso io non so se veramente Kate ha il diritto di pubblicare quello che vuole sui suoi profili ufficiali oppure deve passare per forza di cosa al controllo di qualcuno penso più la seconda ipotesi però magari boh c'è stato un errore e si è voluta avrà detto raga vabbè mi prendo io la colpa tanto non ho stata nulla chi se ne frega ma c'è una piccolissima parte complottista dentro di me che vuole in realtà tutta questa scena una sceneggiata una cosa fake di cui Kate Middleton non ne sa niente e non è neanche presente non lo so cosa pensare mi viene in mente una cosa vi ricordate quando abbiamo affrontato tutta la storia del Free Britney del movimento di Britney Spears per liberarla dalla conservatorship che all'inizio dicevamo che erano teorie del complotto e poi si sono rivelate vere boh mi sembra di ricadere un attimo a quegli anni a quei mesi in cui qualsiasi cosa siccome noi abbiamo visto delle cose che non vanno che sono diverse rispetto alla nostra quotidianità quello che ci ha quello a cui ci ha sempre abituato allora ci deve essere qualcosa di losco allora ci deve essere qualcosa di marcio ora nel caso di Britney Spears avevamo ragione alla fine nel caso di Kate Middleton non lo so quanto può essere vera una osa del genere o quanto no certo da parte loro se veramente Kate Middleton può pubblicare sui suoi social tutto quello che vuole modificandolo a suo piacere beh per far azzittire le voci di corridoio storia video dove parli e dici ragazzi oggi è giorno tot fai vedere la data solo ancora viva non ve preoccupas basterebbe far quello in realtà per azzittire molte voci poi che abbia modificato meno la foto a me non è che mi interessa molto nel senso le modifichiamo tutti insomma è già tanto che non abbia il viso uguale a tutti noi che usiamo face up però boh c'è sempre quella piccola parte di me che vuole credere al complotto che vuole credere in qualche modo che c'è qualcosa che non torna e quindi voglio adesso lanciare la palla e lasciarvela a voi fatemi sapere voi qua sotto tra me il commento cosa ne pensate si sta creando un putiferio per nulla oppure sotto sotto anche voi anche a voi è uscita fuori quella parte complottista che vi fa pensare che boh effettivamente qualcosa di strano sta accadendo non lo so aspetto di leggere tutti i vostri commenti e per il momento è tutto ovviamente non lo so se ci saranno altre novità altre news altre spettegules faremo anche una parte 3 e ormai Spilling the Tea diventa così si parte da un argomento sperando di non parlarne mai più e invece poi diventa una serie di mega successo che Netflix è spostate proprio fatto sta fatemi sapere tutto quello che volete iscrivete al mio canale se ancora non l'avete visto per oggi è tutto mettete mi piace a questo video se anche voi credete al complotto finale ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao